Molte persone sopravvalutano quello che possono fare in un anno e sottovalutano quello che possono costruire in un decennio. Non è mai troppo tardi. Molti di noi si arrendono alla vita, molti di noi pensano che superata una determinata età non sia più possibile cambiare. Perché ormai è passato troppo tempo. Non è più possibile mettersi in gioco. Come se avessimo un tempo limitato per decidere quello che fare e quello che ci rende felici. Ma ricordati che non potrai mai cambiare quello che è stato, ma potrai sempre cambiare quello che sarà. A volte sarà più facile, a volte sarà più complicato, ma sarà sempre possibile. Devi credere che sia possibile. Questa perdita di speranza ci rende tristi, ci toglie le energie e la voglia di andare avanti. Non proviamo mai a fare qualcosa in cui non crediamo, quindi voglio dirti che non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi per iniziare l'università. Non è mai troppo tardi per cambiare lavoro. Non è mai troppo tardi per cambiare amici. E non è mai troppo tardi per cambiare vita. È vero, alcune volte ti sembrerà che qualcuno sia più avanti di te, alla tua stessa età, ma non devi sentirti indietro. Siete partiti semplicemente da due punti diversi. Non stiamo parlando di chi arriva prima, stiamo parlando di chi è felice. Se ti rende felice non importa dove sei rispetto agli altri. E se non sei il primo oggi, non significa che tu non possa essere il migliore in domani. Queste azioni, questi cambiamenti richiedono coraggio. Crescendo perdiamo la voglia di metterci in gioco, di rischiare e di provarci. Ma devi capire che ne varrà la pena. Che tutti questi sacrifici che dovrai fare ti porteranno ad essere felice. Ed il cambiamento è normale. Crescendo capiamo molte cose, cambiano i nostri interessi, cambiano le nostre abitudini e a volte dobbiamo cambiare anche noi. Se la vita che stai vivendo senti che non ti appartiene. Se non sei veramente felice, se senti che sei destinato ad altro, se senti che c'è qualcosa più grande là fuori che ti sta aspettando, allora mettiti in gioco. Stravolgi i piani. Non aspettare che qualcosa accada magicamente. Prendi sulle spalle la tua vita e sii il cambiamento. Non importa se hai 20, 30, 40 o 50 anni, non ci sono limiti di età per essere felici. Perché la felicità non è età. Puoi cambiare e hai sempre tempo per farlo. Non esiste dire non sono quel tipo di persona perché quando hai deciso che tipo di persona essere? Quando hai deciso che quella vita non faceva per te? Sei tu che decidi dove andare, la direzione può cambiare se sei cambiato durante il percorso. Se gli obiettivi che avevi 10 anni fa non ti appartengono, allora cambiali. Non lasciare che la società o le persone intorno a te ti dicano che non c'è più tempo o che tu hai fallito. Hai semplicemente provato una strada che non era la tua. Hai imparato qualcosa. A volte non troviamo subito quello che ci piace. A volte abbiamo bisogno di più tempo e finché c'è vita c'è speranza e c'è tempo per provarci. Non deve essere un cambio radicale, non devi stravolgere la tua vita. Devi iniziare piano, fai il primo passo, prendi lo slancio, inizia ad iscriverti in palestra, inizia a seguire le prime lezioni universitarie, inizia ad informarti su come aprire quel business, inizia a leggere di quell'argomento, inizia a frequentare nuovi amici, inizia a scoprire il mondo. Hai tempo per cambiare, hai tempo per metterti in gioco, basta aspettare il cambiamento. Devi cambiare tu, devi cambiare quello che fai e quello in cui credi per avere nuovi risultati. E devi farlo oggi, per essere poi più felice un domani. Non lasciare che la società o quello che le persone penseranno di te ti impedisca di realizzarti, di raggiungere i tuoi sogni. Non è mai troppo tardi per essere felici. Non è mai troppo tardi per essere felice.